E... Oggi siamo tornati col secondo episodio di Tomb Raider The Dagger of Cyan Che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo Supportate la serie, spollisciate mi raccomando E... niente Giochiamo Però non eravamo rimasti qua, dai figaro Ha fatto un volo pazzesco, vabbè ragazzi Mi fanno troppo scherzare Questa parte qua mi sa che me la taglio perché... Cioè la tigre è finita in acqua, cioè si sta facendo il video Cioè cosa sta facendo questo? Ragazzi ma alleggia Cioè ma guardatela E li passo il traverso Ragazzi bellissimo Non tell me this is a difficult because I'm not very expert and I have no pants Oh che bello checkpoint Ma questo posto è fighissimo raga Sì però raga che figa che è Comunque Devo farlo tutto al volo Che figata raga mi sto infognando Ok siamo in un posto misterioso come potete vedere Forse anche mistico Queste ragazzi sono le terme Posso farci il bidet Che palle Questo tasto Mi vedi e mi vedi e salta però Ok ragazzi ho trovato tipo il balletto per Forta fortuna Allora 1 2 2 3 4 5 6 7 Perché 7 è il numero perfetto No Di 7 passi di danza Che ci porteranno Fortuna non è vero Fortuna non è vero Era 3 il numero perfetto We got it Yes We can No Non possiamo andare lì allora Vi faccio vedere sta cosa No 20 minuti Voi quanto avete visto 2 minuti Bene Voi oh vabbè raga non ditemi che devo saltare lì dovevo saltare lì oh si 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 ho dovuto le mie cuffie per capire meglio oh non ne potevo veramente più ma muoio tanto no niente ragazzi per capire meglio io devo togliermi le cuffie e non sentire niente fino a domani mattina mia nonna pronto Simone Samuele Samuele non c'è Simone si allora senti me lo faccio un momento va bene cioè mia nonna ha chiamato me per parlare con il mio fratello no 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 non riesco a fare questa cosa tu devi fare una scaletta Ok Ciao Aspettate ragazzi Ragazzi le devo fare una cosa Simba Un giorno tutto questo Sarà tua Ragazzi ho un debole per quel film Veramente Qualcosa di spettacolo Non è che questo è per solo per confondermi Perché lo conosco bene questo gioco Perché non debba sparare Io lo conosco questo posto No mi state parlando Stanno prendendo il giro No si stanno prendendo il gioco di me ragazzi Siamo ritornati qua Non ci posso credere Era qua e non l'ho visto prima Perché quel livello era bonus così a caso C'era manco niente da prendere Che pa Io li odio sti giochi Sti degli infani Fate morire le persone Ok ragazzi ho dato il tutorial E non ci ho capito niente lo stesso Se devo essere sincero Perché c'era un taglio brusco E non l'ho capito una mazza Boh Quindi devo provare a inventarmi qualcosa Perchè non sparare? Raga Avete visto poi Abbiamo trovato la strada? Sì buonissimo Ma cavolo Ma raga Ma come è possibile sta cosa? Era lì si è iniziato a buggare No dai Sì Evviva Abbiamo andato dalla strada No siamo morti sulla strada Sì Spacca così No ma raga ma ci sono i ragni Un diario Melissa Ho bisogno di Tenermi in sicuro comunque Vabbè non ci ho Vi riuscirei a tradurvela Però non credo che vi interessi Ma c'è una cassa ragazzi C'è sto opening? No No Ma Non ho cliccato il tasto Vabbè però Effettivamente un flerge può stare bene Posso Uscire Io devo uscire da qua però Item needed Alla chiave Uno dove è che ne nasconde le chiavi? Dentro Sotto lo zerbino no? No Però comunque potrebbe No ma come sono morto No 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 ti prego Ti prego Ragazzi ho trovato sta cosa Ma vedete No non va Ma dai ma che cosa schifezza è ragazzi Rebivire La 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 La